Una serena e cordiale buonasera a tutti voi dal circolo sportivo Stella Azzurra, Serie A, Lega, Calcio 8, si sfidano la Lazio Calcio 8 e l'Eurobet Palermo. Prova ancora una volta la sponda su Angele che non funziona, intanto il tiro dalla lunga distanza e ci vuole un miracolo di Caperchi. Quello che ci sembra essere Stazzi, allarga sulla destra il pallone, ancora la palla per Stazzi, il sinistro e la palla in rete! Un 1-2 strepitoso con Capitan Bozzetto che ha spondato per la corrente Stazzi che di sinistro con il suo sinistro di collo ha insaccato la sfera sotto la traversa. Proverà di nuovo la battuta a rete con Caperchi alquanto preoccupato, ancora il sinistro che filtra e ci vuole il miracolo di Caperchi! Ora l'Eurobet prova a risalire, palla sulla sinistra, giocata da La Rosa. Il filtrante verso Angele controlla la palla in aria, si rigira e viene parata la palla a terra da Mastropietro. Per l'Eurobet andarsene, ancora il pallone calciato in porta, è una conclusione strepitosa dell'Eurobet alla ricerca del pareggio. Palla in aria, pescato, vita colonna, si gira, batte di destro e il riflesso di Caperchi! Squadre che tornano prontamente in campo. Toccata alla sfera probabilmente dall'Eurobet, il tiro di Angele, la palla che filtra e colpisce il palo esterno. Crisafulli, buono l'apporto di Crisafulli in questa ripresa al match. Le Angeli rasoterra e la palla che colpisce il palo! Rincorsa lunga, tre uomini in barriera dell'Eurobet più due a disturbo della Lazio. La palla filtra e ancora una volta respinge Caperchi. Ora Apolloni prova a tirare direttamente in porta e ci vuole il colpo di Reni di Mastropietro. Tanto si prova la ripartenza per l'Eurobet. Ancora il numero 11, il sinistro e la palla che termina a lato. Apolloni spalla la porta, se ne va ancora Apolloni, libera il destro, il tiro! La palla respinta da Mastropietro e in scivolata un po' col piede a martello. Ancora Apolloni batte corto, palla messa in mezzo di esterno, non arriva la rosa sul pallone. Ancora da Solfo, il destro, è un fallo di mano nettissimo in area, non ravvisato dall'arbitro che definisce la palla presa sulla spalla. Non so come abbia fatto. Pallone rinviato, ancora il numero 7 della Lazio, Gabriele Estriani si accentra. Ancora lui, serve Spanò in area. Sanetti, il pallonetto della rete, il leggero tocco sotto di Sanetti e il 2-0 per la Lazio quando siamo quasi allo scadere. Azione perfetta, impeccabile di contropiede. Il numero 7, Gabriele Estriani, ha servito sull'out di destra il compagno Spanò che ha messo la palla in mezzo per la corrente Sanetti che a due metri dalla linea di porta non ha dovuto far altro che fare un tocco sotto e termina in questo momento la partita. Lazio calcio a 8 che batte per 2-0 l'Eurobet Palermo in virtù delle reti di Estriani nel primo tempo e di Sanetti. È stata una partita equilibrata, faccio i complimenti agli avversari che sono stati veramente una bella squadra. Dispiace per l'episodio del ricorre, io sinceramente non ho visto se c'era o meno però purtroppo siamo esseri umani, tutti possono sbagliare. Complimenti alla mia squadra e con l'umiltà si va avanti. Non so dove possiamo arrivare ma più uniti siamo e più avanti potremmo andare. Penso che soprattutto nel secondo tempo abbiamo giocato veramente bene. Il primo tempo purtroppo forse abbiamo giocato un po' troppo dietro, un po' attendissima. Credo che ce la siamo giocate la grande e se attacchiamo, se siamo su, ce la giochiamo veramente con tutti. Il ricorre c'è, il ricorre è inutile dire che non c'è. Purtroppo c'è, non è la prima volta, se non sbaglia è la terza. Non vogliamo fare i piagnoni come si dice a Roma però quel che è giusto è giusto, il ricorre c'era.